Campari per me è la storia di un colpo di fulmine, è filosofia, è un punto di riferimento a livello mondiale. Campari è un simbolo comunque per noi italiani. Qualcosa che ti rende un po' fiero. Per me è tutta la mia carriera del barman. Mi chiamo Alberto Terenghi, Albo Re Fabio, Emilio Rocchino. Per me Campari è colore, pubblicità, marketing, moda, soprattutto sono un sacco di drink che funzionano benissimo. Si può creare qualsiasi cosa col Campari. Mi chiamo Ira. Giorgia Rigoni, penso a un aperitivo, un filo diretto va a Campari e porterò il mio cocktail che si chiama Comaros. Una mia ricetta originale, Messico alla milanese. Messier in Dubai. Monaco Passion. The Red Revolution. Parfois 2000. Il mio cocktail di oligi si chiama Red Perfection. Mattia Mondini, Giovanni Quaresmini, io ho 22 anni. Mi pare in qualche modo anche un rito. Sicuramente è quello che sta davanti a tutti. Il top. Il vincitore della barman competition secondo me deve avere una forte personalità e soprattutto deve riuscire a trasmetterla al cliente senza salire in cattedra. Il barman vincente deve avere semplicità. In primis uno che riesce a interpretare il marchio, in secondis uno che riesce a trasmettere passione ed emozione. Questo è il nostro lavoro. Noi non facciamo drink, noi vendiamo un'emozione.